Una donna è morta all'improvviso nel Casertano, Anna Maria Bosco, 59 anni, originaria di Aversa, ma residente a Teverola, secondo quanto riportato le testate giornalistiche locali, è deceduta dopo un malore improvviso. Come riporta Edizione Caserta, la donna lascia il marito Antonio e i figli Gennaro, Orsola e Francesco, tantissimi messaggi di cordoglio e affetto per ricordarla.